Qui vi presentiamo le 5 miglior zaino porta bambino da montagna. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Monti Seche, zaino porta bambino, 25 kg, diversi colori. La notevole quantità di accessori rende questo zaino il migliore per l'alpinismo. Lo zaino è completamente flessibile, imbottito, traspirante e tutte le fasce e le fasce per le spalle sono realizzate in materiale extra di convenienza. A grandi tasche laterali, la fodera cellulare è totalmente lavabile e anche la cintura di sicurezza ammortizzata è regolabile in 5 posizioni. Da non perdere il baldacchino del sole copertura delle precipitazioni e la protezione dal vento laterale. Passando al numero 4. Monti Smooth, zaino porta bimbo. Bellissimo zaino con telaio in alluminio antitortura e tutore che garantisce la massima sicurezza per il bambino. Lo schienale è progettato con un'imbottitura davvero confortevole. La seduta ha un'imbottitura morbida e il supporto dei fianchi è ergonomico. La cintura della parte superiore del corpo e anche l'imbracatura della spalla offrono un forte confort anche al genitore. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Monti's Explore Evolution, zaino porta bimbo. Appassionati di trekking di montagna ma anche al centro dei legni verdi? In questo caso, Monti's Explore Advancement fa per te perché è riflettente e traspirante in tonalità arancione per aiutare a combattere il risultato dell'umidità dei boschi e anche del sudore. È arredato con comfort di alto livello, cinture di sicurezza a 5 punti, copertura solare, copertura antipioggia, proprietario della bottiglia, cuscino per la testa, apertura laterale e anche zaino aggiuntivo. Almostat è top of our list at number 2. F.A. Sports Zaino porta bimbo Lilibus. Zaino prontamente disponibile in grigio, blu e nero. Risparmio di spazio ma totale con tutto il necessario per la comodità di mamme e papà e bambini, in particolare le cinghia di sicurezza e sicurezza flessibili e anche totalmente imbottite. Un dispositivo essenziale per mamme e anche papà entusiasti del trekking in montagna, lo zaino F.A. Sports Zaino pieno di copertura solare, copertura delle precipitazioni e spazio di archiviazione sotto esso. E infine il numero 1 della nostra lista. Monti's Over, zaino porta bimbo premio. Zaino da collina per bambini offerto in vari colori. Lo zaino è flessibile per adattarsi sia alla mamma che alle spalle del papà e ha una cintura di sicurezza ammortizzata per fissare il piccolo senza il fastidio di parti difficili. Lo zaino è dotato di proprietario di bottiglie, imbottitura poggiacapo, copertura solare e copertura delle precipitazioni e allo stesso modo uno zaino extra che puoi scegliere se eliminare o meno, a seconda delle tue esigenze. Più grande di un viaggio, l'esperienza per tuo figlio sarà sicuramente quella di una passeggiata molto comoda e rilassante con madre per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.